Coronavirus, qual è la situazione in Polesine? La situazione non è difforme da quella degli altri giorni. Continuiamo con quotidiane positività sull'ordine 80-100. Oggi dire sono solo 88 vi fa capire ovviamente che siamo in tempi ben diversi rispetto ad analogo periodo di piena epidemia come era in aprile. Però uso una similitudine per cercare di far capire che non è questo dato assoluto in sé che ci deve spaventare, cioè 100 positività al giorno. Uso la similitudine del brodo. Il brodo finché si cuoce, finché bolle, l'acqua produce la schiuma e solitamente noi togliamo mano a mano che si forma questa schiuma del brodo per renderlo più gradevole e più buono. Ecco, è praticamente quello che stiamo facendo noi, cioè facendo tanti tamponi. Oramai viaggiamo a una media di 2000 tamponi al giorno e anche più tra molecolari e antigenici rapidi e con una percentuale di nuovi casi positivi sulle teste tamponate che varia dal 6 all'8% che è comunque la più bassa del Veneto i 100-120 positività al giorno, le 120 positività al giorno sono una conseguenza statistica ma quello che importa è che noi, secondo la similitudine del brodo, della schiumarola noi tiriamo via dalla strada del contagio tutte queste positività perché la cosa più importante, come ho sempre detto e ripeto è certamente fare i tamponi, trovare i positivi ma ancor più isolarli, individuare i contatti e isolare anche quelli. Quindi non è il numero in assoluto che deve far paura, ripeto. L'importante è che noi continuiamo e per il momento l'azienda sta reggendo sull'attività di tracciamento e isolamento. Un po' più preoccupante è la situazione sul versante dei ricoveri siamo oltre 90 ricoveri, 13 in terapia intensiva questo significa che le risorse umane le dobbiamo spostare sull'attività dell'ospedale Covid e di fatti da domani dopo domani incomincieremo a mettere in atto un ulteriore piano di riduzione delle attività ordinarie dalle visite specialistiche alla chirurgia di elezione e quant'altro perché ripeto abbiamo bisogno di portare risorse umane per l'assistenza dei pazienti in terapia intensiva e in area medica Covid a trecente. Grazie. Grazie a voi.